ciao a tutte allora oggi video prodotti terminati del periodo diciamo anche con una valutazione promossi o bocciati devo dire che sono quasi tutti promossi anzi direi che sono tutti promossi alcuni con una piccola riserva però tutto sommato sono prodotti che mi sono piaciuti e volevo anche dirvi che siccome io diciamo vivo da sola ovviamente ho un consumo di prodotti molto ridotto rispetto a chi magari vive in famiglia quindi magari sono in due in tre in famiglia quindi prodotti ovviamente vengono consumate con maggior rapidità mentre per quanto mi riguarda consumo tutto da sola di conseguenza non ho tantissimi prodotti da da mostrarvi allora partirei subito con i prodotti non make up diciamo così e vi vorrei ho terminato la candela alla rosa di avon questa qui è una candela non mi ricordo da quanto è però è bella grossa una giara molto grossa la profumazione buonissima io tra l'altro questi questi vasetti di vetro quelli fatti un pochettino decenti poi li recupero quindi adesso poi toglierò la cera e recupererò il vasetto le candele avon mi piacciono tutte tantissimo l'unico diciamo piccolo difetto che posso trovare queste candele soprattutto quelle diciamo nella giara grande perché poi le altre alcune sono in metallo in una latta di scusate sono in un contenitore di latta quelle diciamo si consumano tutte queste invece vedete finisce lo stoppino e però rimane ancora del prodotto qua mi spiace un pochettino però d'altronde essendo finito lo stoppino non si può più recuperare questo prodotto però tutto sommato diciamo che per il prezzo che ha che mi sembra che si aggira intorno ai 10 euro devo dire che hanno un'ottima durata un'ottima profumazione ne ho provato anche altre adesso qui da farvi vedere questa che ho terminato sempre a proposito di candele ho terminato e poi ho ricomprato questa candela di l'ho trovata da lidl infatti questa qui è della marca v5 che è la marca di lidl lidl aveva fatto uscire per la festa della mamma io ho preso sia questa qui azzurra che quella rosa diciamo l'azzurra questa che azzurra è fantastica infatti poi ho fatto in tempo a riprenderne un'altra perché poi sapete lidl fa la settimana dopodiché c'è quello che c'è c'è quello che rimane rimane quindi questa l'ho ritrovata e l'ho ricomprata o attualmente diciamo da utilizzare sto utilizzando quella rosa che però è meno persistenza di questa qui quindi fortunatamente ho ripreso questa qua ne ho prese due di questa e l'altra quella rosa quando finirà finirà però diciamo che come profumazione questa qui intensissima tra l'altro queste avevo pagate forse 2 euro se le avevo pagate 2 euro quindi se dovesse capitarvi di andare alla lidl che magari le trovate anche come diciamo prodotti rimanenza ecco vi consiglio di prenderle e soprattutto questa qui azzurra ora veniamo i prodotti invece di diciamo l'igiene personale allora cominciamo sempre parlando di lidl cominciamo dai dai sudati dei saponi allora io con lidl mi trovo benissimo con i saponi che escono non quelli che sono di linea ma quelli che escono al varie ricorrenze in questo caso questo era uscito questa primavera in realtà dovrebbe essere dovrebbero essere profumazioni estive mentre adesso sono uscite le profumazioni primaverili vabbè non importanza questo era al all'ananas pesca ananas mi sembra summer passion mi trovo bene perché innanzitutto costano poco anche se adesso sono aumentati perché prima costano tipo 99 centesimi adesso visto che costano 109 quindi sono aumentati di 10 centesimi però va bene sono mezzo litro di prodotto questi li utilizzo sia diciamo in bagno che in cucina soprattutto le profumazioni magari meno più fruttate le utilizzo in cucina mentre diciamo quelle più fiorate le metto le metto in bagno comunque questi ve li consiglio perché c'è dentro tanto prodotto e lo trovo un buon detergente mani poi ho voluto provare sempre di lidl quindi dc e questo sapone liquido con antibatterico questo l'ho messo in cucina questo mi è piaciuto tantissimo perché ha una profumazione di aloe quindi una profumazione leggerissima e poi in più anche l'antibatterico diciamo che questo mi serve più che altro per in cucina l'ho utilizzato tanto anche perché magari esco con il cane per la passeggiata dopo di che mi lavo le mani con con l'antibatterico ne avevo prende ho preso anche un altro che tengo in questo momento il negozio sempre per lavarmi le mani nel bagno del negozio comunque anche questo è consigliatissimo questo è sempre mezzo litro di prodotto non ricordo cosa costi però mi è piaciuto infatti dice pulizia e freschezza detergente del detergente delicatamente la pelle complesso di sostanze idratanti con estratto di aloe vera questo anche questo consigliato poi per la cura del corpo direi che ho terminato questo qui di avon natural di spray corpo di avon a me spiacciono tantissimo poi vabbè c'è una profumazione che piace di più quella che piace di meno però tendenzialmente mi piacciono molto perché sono molto come dire molto profumati ma poi lasciano anche la pelle molto idratata e sono persistenti anche il giorno dopo quindi dopo la doccia io mi spruzzo questo e anche il giorno dopo sento comunque soprattutto nelle braccia perché è l'unico che posso diciamo sentire e si sente ancora questa profumazione questo in questo caso è il magnolia però adesso questa è diciamo ancora il vecchio packaging perché adesso sono usciti con dei nuovi packaging e e hanno delle profumazioni diverse comunque per me qualsiasi profumazione va benissimo perché li trovo veramente molto validi come prodotti tra l'altro mi sembra che costano sui 3 euro 3 euro qualche cosa comunque ne vale la pena sono da 100 ml e va benissimo poi sempre per il corpo ho provato questo campioncino di brochet questo tra l'altro un prodotto si vede non si vede niente non importa ve lo dico io allora questo qui è un doccia schiuma che era alla mora è un flaconcino da 50 ml diciamo che sono quei flaconcini a viaggio o comunque sono flaconcini appunto come dati come campionatura questo mi è arrivato nel pacco di brochet di cui vi avevo fatto vedere i prodotti qualche video fa e anche se la fragranza non c'è più in catalogo non importa perché ho voluto proprio provare la consistenza del prodotto e come mi trovavo la profumazione intensa ma ho notato che il brochet nei nei grossi e le profumazioni sono sempre intense a dalle creme per le mani agli sciampi per i capelli perché li sto già provando quelli che ho quello che ho acquistato ovviamente adesso invece mi rendo conto che anche questi prodotti quindi bagno schiuma sono profumatissimi tra l'altro ho provato anche quello almonoi e niente quindi anche il brochet per quanto riguarda le profumazioni dei bagno schiuma sono promosse e anche questo mi è piaciuto molto ora veniamo qualcosa per ai capelli allora per i capelli ho terminato questo questo prodotto di avon che è l'olio l'olio al absolute nourishment e l'olio con argan in full l'olio di argan con argan e olio di cocco sono 100 ml e questo qui mi è piaciuto tantissimo perché innanzitutto io l'utilizzo sui capelli bagnati quindi dopo aver fatto la doccia essere mi lavata i capelli eccetera utilizzo questo l'ho trovato innanzitutto essendo olio non l'ho trovato appiccicoso comunque pesante sui capelli già i miei capelli come dicevo anche in altri video sono dei capelli tendenti a sporcarsi molto facilmente i capelli grassi quindi ho sempre bisogno di prodotti che non appesantiscano il capello e questo mi sono trovata bene perché non lo appesantisce affatto ed è molto 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 distrecante quindi perché ha problemi anche ad avere che ha sempre una dei capelli ma soprattutto chi ha i capelli molto lunghi assolutamente consigliato adesso sto provando l'altro quello più piccolino sempre di questa linea qua che però contiene solo olio di arcan anche quello mi sto trovando bene poi quando lo terminerò bene parlerò comunque gli spray che per i prodotti per i capelli gli oli per capelli di avon sono assolutamente validi allora vediamo un attimo ho terminato ma questa è una vita che ce l'avevo questa base per un che di kiko ne ho già un'altra aperta da una vita allora questa è la smoothie in base diciamo che non credo che kiko faccia ancora cioè sicuramente fa ancora dei primer per le unghie ma non credo che ci siano più in questo tipo di confezione qua comunque se trovate lo stesso prodotto vi faccio vedere più da vicino c'è un riflesso pazzesco ecco ve lo faccio vedere più da vicino lo stesso prodotto con un packaging diverso comunque un prodotto validissimo anche perché prima di tutto asciuga rapidamente poi quando togliete lo smalto perché prima mettete questo poi mettete lo smalto quando andate a rimuovere lo smalto lungo l'unghia non rimane assolutamente gialla e lo smalto viene via subito a differenza di quando non si usano per esempio le basi che lo smalto comunque innanzitutto fa fatica a vener via ma soprattutto vi lascia poi comunque l'unghia colorata se avete nessuno smalto rosso mi rimane leggermente l'unghia rosa ecco in questo caso invece utilizzando invece questo prodotto qua assolutamente una rimozione facilissima non lascia lo smalto non lascia colore quindi è una buona protezione per l'unghia e poi si asciuga velocemente volendo si può utilizzare come sto facendo in questo caso che devo ancora mettere lo smalto anche da solo lo vedete come sono luci delle mie unghie perché appunto utilizzato questo prodotto qua quindi volendo potete anche lasciare le unghie senza smalto mettete sempre mettete mettendo questa base qua e rimangono comunque belle lucide comunque assolutamente consigliato infatti ne avevo presi due ai tempi ce n'è a dentro ancora un po ma non arrivo più col pennellino quindi purtroppo dovrò dovrò buttarlo comunque né un altro di riserva passiamo il viso per il viso ho terminato il siero di avon questo qui è in un con la vitamina c radiance maximizing sierus vitamina c questo qui ne avevo già parlato nel video degli acquisti avon che mi sembra che non mi ricordo se l'ultimo forse l'ultimo che ho pubblicato perché ne ho comprato uno nuovo per questo qui l'ho terminato come vi dicevo anche in quel video un siero che io utilizzerò ho inserito comunque già da più di un mese nella mia diciamo routine quotidiana di skin care e pur essendo un siero quindi diciamo un prodotto che di solito dovrebbe essere utilizzato a periodi durante l'anno a me non è interessa perché mi sono trovata così tanto bene questo prodotto che per me rientrerà comunque nei prodotti utilizzati tutto l'anno la grana della pelle l'ho trovata decisamente migliorata mi ha chiuso dei pori prima di utilizzare questo prodotto la pelle faceva era veramente brutta invece adesso la vedo più compatta la vedo più luminosa tenete conto che adesso io ho sotto cioè come base trucco solo una terra che sarebbe la terra di catrice e non nient'altro cioè ho il primer di avon il magics che avevo comprato no di cui avevo parlato non mi ricordo comunque un primer di avon magics assolutamente trasparente diciamo e poi ho la terra quindi per una persona che ha sempre avuto problemi di acne e quindi di macchie sulla pelle di pori dilatati eccetera eccetera poi a raggiungere questo risultato diciamo anche alla mia età perché comunque io ho 40 anni qui non sono una ragazzina la mia pelle si rigenera con una una frequenza minore rispetto a chi è giovane e devo dire che ottenere i risultati di questo tipo per me strabiliante quindi conseguenza un prodotto assolutamente consigliatissimo a chi ha avuto problemi di pelle come i miei che continuano ad averne perché io sono veramente molto soddisfatta di questo risultato di pelle quindi assolutamente consigliato ultimo penultimo prodotto che vi faccio vedere ho provato queste maschere penso che si chiami HQ la marca comunque questa è una marca assolutamente italiana le ho trovato in offerta da S lunga questa è una maschera in tela in questo caso è una maschera rigenerante idratante al mirtillo dunque per le maschere in tela a me piacciono molto le maschere diciamo questo tipo di maschere avevo provato ai tempi anche quelle coreane ordinate su notino e quelle vabbè sono il top dei top dei top perché sono fantastiche sia a livello perché sono molto imbevute di prodotto e addirittura e soprattutto mi piacciono perché quando le applichi sul viso sono perfette per il viso ci sono altri tipi di maschere sempre in tela che ho provato anche garnier per esempio dove quando le applichi sul viso praticamente hai sempre dei pezzi di tela che ti avanzano quindi devi sovrapporre uno all'altro quindi quelle non mi piacciono assolutamente le coreane sono il top ovviamente questa è una via di mezzo ho notato che si applica al viso senza lasciare dei dei pezzi in più in giro che ti impattaccano i capelli o comunque devi andare a sovrapporre qua si si adagia perfettamente sulla zona del naso perché alcune maschere le tiri e per farle arrivare qua praticamente rimangono sollevate nella zona del naso quindi prendono solo questa parte qua del naso e qui praticamente c'è un vuoto invece questa aderisce perfettamente al naso e non e non è rimane perfetta anche qua è una garza fondamentalmente quindi a un tipo una tipologia di di prodotto diciamo di materiale in garza quindi non è molto fitta è bene imbevuta all'interno della sua confezione ci devo dare un aspetto negativo di questo tipo di mass di questa maschera meno in particolare non so se perché ci sia sia al vertillo o comunque perché contiene anche acido ialuronico e mi ha bruciato legge mi pizzicava leggermente nel contorno occhi qua però ha detto la tengo su 15 minuti lo stesso perché voglio vedere se ho qualche reazione tipo una pelle arrossata cose di questo genere in realtà no perché poi una volta tolta dopo i 15 minuti la pelle era non era non era né arrossata né gonfia non c'era niente sicuramente è l'effetto dell'acido ialuronico che effettivamente c'è all'interno della maschera che va a pizzicare la pelle mi sono trovata bene adesso ho preso anche altri di sempre stessa marca però altre chiamiamole fraganze perché ne ho una antietanea un'altra mi sembra rigenerante e poi ho preso anche i patch per gli occhi e ho provato a prendere anche un patch per le labbra vediamo come sono comunque come prima impressione questa qui è buona e credo che la ricomprerò ultimo prodotto che vi mostro è il contorno occhi e new di avon questo è il contorno occhi litting dual aid system e col proteinolo questo è un prodotto diviso a metà da una parte c'è il gel che va applicato sopra la palpebra e dall'altra parte c'è la crema che va invece nella parte sotto dell'occhio allora è un prodotto valido non posso dire che non sia un prodotto valido però io ho notato siccome non è la prima volta che lo acquisto ho notato che questi tipi di prodotti qua tendono a finire almeno io tendo a finire prima il gel perché non lo so perché pur essendo in quantità pari finisco prima gel e quindi poi mi tocca utilizzare solo la crema sotto quindi non ha molto diciamo senso perché dovrebbero andare di pari basso e poi sinceramente continuare a mettere dentro il dito soprattutto per un contorno occhi che non finisce mai continuare a mettere dentro il dito per poi sparmarlo sotto gli occhi è vero che esistono anche le palettine ma in questo caso non vengono date in dotazione insomma non mi piace molto questo contatto delle dita continuo con il con il contorno occhi preferisco di sicuramente di più contorno anche quelli stick dove praticamente tu metti schiacci viene il quantitativo di prodotto e poi lo applichi bene con le mani diciamo che a lungo andare questo prodotto qui mi ha un po devo dire la verità mi ha un po stufato non credo che lo riprenderò anche perché ho visto per esempio facendo anche i brochet che ci sono i contorno occhi che mi piacciono di più e anche soprattutto per il modo di utilizzo quindi questo prodotto qua non credo lo ricomprerò più non è un brutto prodotto però diciamo che per le mie esigenze personali è un po troppo laborioso ecco mettiamolo così ok questi sono i prodotti finiti diciamo di maggio mettiamoli così di maggio e niente spero di avermi dato qualche consiglio utile di aver fatto vedere di prodotti magari che possono stimolare il vostro la vostra curiosità e quindi magari potete magari essere interessati ad andare acquistarli e niente io vi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutte ciao 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 ciao